allora ciao a tutti oggi siamo da soli non so dove andate a lavorare la mamma al lavoro e noi andiamo in centro a firenze supervento oggi giornata ventosa eccoci ai piazzale eccolo qua ciao davide con un culo galattico abbiamo trovato posto allora siamo sui lungarni di fronte alla biblioteca nazionale laggiù in fondo il ponte vecchio ponte vecchio un po di gioielli l'ore interessano due o tre milioni di euro di gioielli onestamente si partiva faccenda guarda quanta gente c'è allora prima turisti zero ora direi pieno allora siamo in coda dai fratellini un dinaio vicino a piazza signoria che mangiare una schiacciatina o l'ore dopo mezz'ora ci siamo guarda ci siamo siamo noi alla grande e buon appetito per te fammi troppo grazie mille e abbiamo preso lo super schiacciare l'ora non mangiare come sto schiacciata piace e dopo caffino come si vanno ce la fa a finila come bo e ora ci vuole il caffino del riguardo com'è il ciocco puffo dove siamo capitati a sorpresa museo di leonardo da vinci si va da un'occhiata il più bel museo di firenze si va a vedere com'è entriamo vai più più qui Grazie a tutti. A due passi dal Duomo, proprio con il cupolone in bella vista, cosa c'è? Abbiamo il Museo Interattivo di Leonardo da Vinci, assolutamente da visitare, proprio molto molto bellino. Poi la cosa bella è che qui si può toccare le macchine, si possono provare, cosa che in tanti musei non ci fanno fare. Allora, siamo da Strafacemma, sei pronto Chico? Ti entra? O andiamo? Come sono queste carte? Guarda, non lo voglio nemmeno dire. Io vedo prezzi. Cosa? Dimmi. Brilla Bumundi. Bene. Giapponesi con tanta roba. Singles, di Marce, di Stoutland. Ok, sei sicuro? Hai fatto l'investimento l'ore? Ha posto così? Allora dimmi un po', che cosa hai preso? Una roba impressionante. Tipo? Allora, Stoutland V, bellissimo. Toglie 200. Questo è il giapponese, bellissimo. Brilla Bumundi. E poi? E poi, un mega pacchetto di Max, bellissimo. Ok. Allora? Eh. Come è andata? Direi bene. Levate la mascherina. Direi bene. Eh. E ora? Si torna verso casa? Vamo. Sono soddisfatto della giornata? Sì. C'è un bordello, un via carzagliolo enorme. Ora si va a casa perché stasera alle 6 c'è la? C'è la partita. C'è la partita.